Sì, stiamo passando un bel periodo e dobbiamo cercare di continuare così fino alla fine del campionato per avere la spinta giusta nel playoff. Sicuramente è una bella iniezione di fiducia e ci permette di lavorare con serenità e aumentare la nostra autostima e sicurezza nei nostri mezzi. Io sono molto autocritico, so che potevo fare meglio, però comunque sono abbastanza soddisfatto di quello che ho fatto finora anche se non mi accontento, non ci accontentiamo di squadra fin quando non avremo aggiunto il nostro obiettivo. Sì, perché comunque saltare un turno sarebbe importante e ogni piccolo vantaggio adesso ce lo dobbiamo tenere stretto. Sì, è stata la prima partita in cui ero a disposizione e loro sicuramente sono una squadra aggressiva, totalmente diversa dal Padova, sappiamo quali sono le loro qualità e dobbiamo farci trovare pronti. Grazie a tutti.